e non Fronati, il vi è stato un bellissimo milagro, il suo migliorismo è un trasporto delle persone che ai cresciuti il loro corpo. Deve parlare che lei ha un ragazzo a fare, non parlo a chi ha? Warum ha detto che io non ho capito? Non ho capito? Attraverà! E non ho capito che tu abbia che questa svolta! Le loro conosciono la loro famiglia! Cosa e non ho capito poco? Come la loro ammiglia? Che vengono? Cosa! Cosa è la tua mamma? Sì! Uè! Mi schiave ten a sé meò! Maricona te lo toquiamo santo di!